Il piano che abbiamo elaborato è quello che prevede da oggi stesso l'impacchettamento della fullonica e il suo smontaggio e quindi tutta l'operazione è stata calcolata e richiede 10 giorni di tempo per cui tra 10 giorni potrà ripartire lo scavo ma il resto del cantiere continua a lavorare perché quello è solo un pezzo del cantiere quindi Anas e la Zitta sono in grado di assorbire questi 10 giorni all'interno del cronoprogramma. Quindi Piazza Pia aprirà l'8 dicembre? Noi lavoriamo perché deve essere aperta per il ciupileo, per il 24 dicembre quindi proprio per questo ci eravamo lasciati qualche giorno di margine per poter eventualmente assorbire queste sorprese che a Roma non si possono mai esprimere.